Si è svolta nel pomeriggio di martedì 22 agosto presso la Clubhouse del Circolo Tennis Taranto la conferenza stampa che ha presentato la terza edizione dell'Open Paddle Città di Taranto Trofeo Marlù. La manifestazione è stata inserita nel calendario dei grandi eventi sportivi del Comune di Taranto. Siamo orgogliosi di organizzare questa terza edizione del torneo Marlù qui presso la nostra struttura. È un torneo oramai a livello nazionale, avremo i più importanti giocatori di Paddle a livello nazionale che verranno da tutta Italia per partecipare alla nostra manifestazione. Sarà una festa dello sport dove daremo la possibilità ai giocatori non solo di giocare ma anche quello di visitare la nostra città, di conoscere i prodotti tipici. Quindi sarà una settimana densa di impegni. Quindi ci aspettiamo che la collettività venga per poter ammirare dal vivo questi giocatori.